Dobbiamo rilanciare lo spirito della mutua anche per distinguerci rispetto a quella che è l'offerta commerciale delle altre compagnie di assicurazione italiane, in questo senso abbiamo già cominciato una campagna rivolta a tutti i notici assicurati che gli permetterà di realizzare i propri obiettivi previdenziali in un'ottica di estrema trasparenza per quanto riguarda i costi e realizzando il più elevato risparmio previdenziale previsto dal mercato. Riteniamo che questo sia un primo elemento che porterà la nostra mutua a distinguerci e quindi a far percepire che il nostro intento è uno e uno solo e quello reale di fare solo e solamente gli interessi del nostro socio assicurato. Noi non siamo in conflitto di interesse, quindi per noi l'interesse è uno solo, vediamo in questi giorni dove i conflitti di interesse si realizzano in maniera macroscopica, vediamo non i credit che per guadagnare, per distribuire soci 8 miliardi di dividendi ovviamente lo fa a spese di 8 mila lavoratori in meno. Noi quello che si contraddistingue è l'assenza di questi conflitti e l'unico interesse che abbiamo a cura dei nostri nostri assicurati.